Vuoi gestire il tuo conto dove e quando vuoi? Scopri tutte le novità della nuova app di mobile banking di Banca Mediolanum. Accedi con la tua impronta digitale ed effettua le operazioni in mobilità. Con la nuova home page, tutti i prodotti sono a portata di mano e in più puoi modificare l'ordine delle icone come preferisci. Tieni sotto controllo l'elenco movimenti e i dettagli con Visualizza. Scegli tra tutte le operazioni che puoi effettuare con Opera e tieni traccia delle disposizioni concluse e accedi alle contabili di pagamento con operazioni effettuate. Vuoi effettuare un'operazione? Seleziona in un attimo la funzionalità che ti interessa, ad esempio un bonifico. Seleziona ora il conto di addebito e lasciati guidare in tutti i passaggi. Per pagare l'F24 semplificato basta una foto. Puoi ricercare i movimenti che ti interessano attraverso i filtri temporali, ad esempio fai un tap sull'icona Conti e poi accedi alla sezione Operazioni effettuate. Avrai subito una panoramica delle operazioni effettuate per poterle eseguire nuovamente. Con il nuovo menu di accesso rapido, l'home page è ancora più tua. Personalizza la tua pagina con utili scorciatoie per tenere d'occhio i prodotti più importanti o per effettuare le operazioni frequenti in un attimo, come ad esempio fare un bonifico, una ricarica telefonica o pagare un bollettino. E con le nuove dashboard di fondi e trading potrai portare i tuoi investimenti dove vuoi. Perché cogliere l'attimo è importante ovunque ti trovi.